Hey Youtubers, come va? Qui è Richard Boston, oggi è l'11 giugno 2018 e questo è il cielo di ieri sera durante il tramonto e c'erano file di persone che facevano fotografie senza notare l'incredibile quantità di... l'incredibile quantità di ridicoli strati di nuvoli, di polvere, di carbonio, alluminio, bario, stronzi o d'altro che permangono direttamente davanti al sole e a loro non importa niente che aerei come questo che ha due motori dove usa il jet A o il jet B, dipende dal tempo, se è inverno o c'è freddo o è il periodo estivo, a loro non importa nemmeno se aerei come questo stanno chiaramente irrorando due componenti diversi, potete vederlo proprio qui, lo vedete? La vedete questa parte dove ci sono due elementi che escono da un motore mentre dall'altra parte uno solo e questo si si distende da orizzonte ad orizzonte. Non ho il mio cavalletto pertanto non sono molto stabile con la mia fotocamera ma ci provo. Ho dei video in timelapse ed ho preso questo che esce posteriormente dall'aereo e va da una parte dell'orizzonte all'altra. Questa non è una teoria della cospirazione, questa è informazione che ho iniziato dallo scorso anno. Ma il problema è che faccio video di questo tipo da almeno sette anni, forse otto, ed è sempre la stessa identica cosa. I scienziati dicono che probabilmente usano le scie chimiche, ma le stanno usando da anni. La scienza che pasticcia col tempo meteo è esattamente quella che causa ciò che chiamano il cambio climatico. E mi stupisce di quanti accademici, quante persone che hanno ottenuto lauree di primo livello ed altri titoli, vedono la pagliuzza ma non riescono a vedere la trave. Vi ricordate i vecchi giorni delle piogge acide? Questo è successo perché hanno usato gli acidi solforici ma non funzionava, continuava a scendere, così hanno dovuto liberarsene e non se ne è più sentito parlare. Pensate che sia una coincidenza che ho parlato di David Kitt fin da quando, boh, non lo so, dal 2013, e del metodo esatto che sarebbero andati ad usare per irrorare il cielo. Questi signori hanno fatto questo e questo è quello che la gente chiama riscaldamento globale. Lo vedete questo video? Cinque anni fa ho pubblicato questo video dove ho detto le stesse identiche cose. Il dottor David Kitt spruzza i cieli avanti e indietro. È un vecchio video e sta girando da molto tempo. Ed ho detto le stesse cose da molto tempo. E alla fine lo hanno confermato e il motivo per cui l'hanno fatto è che troppe persone hanno iniziato a capire cosa sta succedendo veramente. E così sono usciti con i programmi prossimi di iniziare a erorare i cieli, dobbiamo salvare le emissioni di carbonio e così via. Non viene neanche in mente alle persone che per le piante il CO2 è il loro cibo. Fa parte della fotosintesi. Questa non è una teoria della cospirazione. La più grande cospirazione è quella che sta andando avanti sulla Terra proprio adesso. Questi signori errorano i cieli ogni giorno bloccando il sole e giocarellando col tempo. ma la cosa peggiore è che questi metalli pesanti li inaliamo dentro e ogni volta che qualcuno indica col dito loro semplicemente ci mostrano l'Antartide. Ancora. Sapete che è il luogo dove a nessuno è consentito di andare. Le persone devono iniziare a svegliarsi prima che sia troppo tardi. Ad ogni modo ho finito.